responsabilità però chiaramente definita dal punto di vista normativo del soggetto che propone per conto dell'imprenditore il debito da piazzare sul mercato. Chi lo propone non dovrebbe avere solo l'onere di raccontare il vero circa le ragioni e la qualità del proponente ma mantenere anche un pezzo di rischio del proponente proprio per evitare atteggiamenti comportamenti e prassi che in passato hanno sostanzialmente distrutto questo mercato in Italia. Oggi chi emette obbligazioni per il pubblico sono o grandissime aziende o le banche o nessun altro ma nel momento in cui una banca o comunque un altro intermediario dovesse proporre al pubblico l'obbligazione di un'azienda anche non quotata inevitabilmente e obbligatoriamente dovrebbe in qualche modo tenersene un pezzo perché quella è la garanzia migliore che i pezzi che piazza sono come dire ragionevolmente solidi poi l'attività economica nell'attività economica nulla è certo ma diciamo che la valutazione può essere ragionevole ci ho detto e chiudo per favorire un rapporto più diretto fra il mercato dei capitali e le nostre imprese oltre a renderlo vantaggioso dal punto di vista economico dobbiamo cercare anche di renderlo tra virgolette trendy dal punto di vista culturale e qui il percorso onestamente non è semplice perché veniamo da un complesso economico produttivo che ha fondato i suoi successi e le sue ragioni in una dimensione non tanto quantitativa quanto di governance del tutto peculiare e al netto delle degenerazioni a cui faceva giustamente riferimento il dottor noni che devono essere dimenticate sempre e ancora di più dimenticate quando si va sul mercato è proprio l'idea di modernità che noi non siamo riusciti fino ad oggi a trasmettere devo dire che questa forse è la cosa più difficile in questa fase perché vagliela a spiegare a qualcuno che quello è il moderno e quello è il futuro ogni giorno apre il giornale e ne legge di tutti i colori ma può essere questa l'opportunità per ridiscutere dal punto di vista culturale prima e giuridico e normativo dopo che cosa sia questo benedetto mercato perché se lo immaginiamo così com'è e quindi un luogo in cui operatori professionali il cui numero tende in termini di dimensioni a diminuire man mano che il tempo va avanti opera in maniera globale su tutti i mercati e quindi ci leviamo un pochino dalla testa il tarlo ideologico che quello è il luogo dove si incontra liberamente la domanda con l'offerta allora forse riusciamo dal punto di vista culturale prima e giuridico poi a trovare e mi sembra che il ragionamento il presidente vegas andasse in questa direzione le giuste contromisure perché se un giornale italiano pubblica un annetto e mezzo fa un articolo dal suo corrispondente a new york in cui scrive che il secondo mercoledì di ogni mese si ritrovano in un albergo dieci operatori di dieci grandi banche internazionali che decidano per il mese successivo un certo tipo di mercato in particolare sempre il famoso mercato dei cds e quello non è un altro cioè non detto in maniera brutale non lo facciamo noi non lo fa neanche il signor luigi che è appassionato di trading giornaliero e compra 100 azioni dell'enel e vende 100 azioni del monte dei paschi non incide chi fa i volumi chi ha la tecnologia e anche le competenze e la scienza sono altri e sono sempre di meno bene ma non è non è il male assoluto l'importante averlo chiaro e rispetto a questi avere delle regole che li costringono perché le regole costringono a comportamenti prima di tutto razionali e poi trasparenti insomma noi siamo qui per allargare il mercato non per seppellirlo però con qualche giusta cautela ci viene ci viene ricordato il presidente mussare anche nel momento in cui i nuovi strumenti come quelli di cui abbiamo parlato si affacciano e nuove aziende cercano di arrivare al mercato dell'equity vedevo il presidente conte che annuiva durante quest'ultimo intervento quindi lo richiamerei velocemente in causa poi velocemente anche vegas e poi dopo corno tempini prego devo dire che il dibattito che si sta sviluppando sostanzialmente viene incontro anche a quelle che erano le segnalazioni del documento cioè la necessità di migliorare tutta la regolamentazione dei prospetti non ha necessità di fare una riforma fiscale quello di cui si sta occupando in questi giorni la commissione finanze che tenga conto anche della convenienza il problema del trattamento debito equiti da punto di vista fiscale certo è un in giorni come questi toccare comunque il fisco è una cosa possibile o c'è un terrore di fondo io credo che noi non stiamo facendo un inutile esercizio credo anche che dibattiti come questi mettono in evidenza come la questione non sia solo quella degli scaglioni ma anche di una scelta di fondo sulla politica fiscale che deve avere il governo naturalmente io credo che senza la collaborazione di tutti gli attori sul mercato è difficile anche in un contesto internazionale così dinamico dare risposte che siano in qualche modo proficue il tema io credo che che sia anche quello di guardare con un'attenzione un tema che è sempre stato messo un po da parte nel nostro paese ma che fa parte ancora una volta delle raccomandazioni del consiglio europeo all'italia che è quello del venture capital in questo credo che qualcosa ci può dire senz'altro gorno tempini ma mi sembra anche di rilevare da questo primo giro di battute che il compito della commissione è sicuramente molto oneroso dovremmo ripensare un po al tuo testo unico di finanza per rivedere un po le governance i controlli io sono d'accordo con tononi eccesso di controlli recuperati esatto e poi naturalmente anche l'ipotesi di che noi abbiamo adombrato anche nel documento finale di una revisione della legge 43 del 94 sulle cambiali finanziarie e lo snellimento delle procedure ma sul quale mi sembra di aver capito che il presidente della consob sta alacremente lavorando c'è anche un problema di costi ci si no ma ma insomma molti esperti che noi abbiamo sentito nel corso delle audizioni hanno detto che i costi sostanzialmente rispetto al panorama internazionale sono sostanzialmente gli stessi devo dire che il panorama internazionale presenta imprese di tutt'altro taglio rispetto alle nostre quindi se si vuole fare un piccolo ingresso anche per dimensione in borsa bisogna anche rendere conveniente e però molto apprezzato l'idea espressa da da mussari che insomma gli sponsor quelli che mettono in circolazione tengano un po in mano per garantire che l'offerta è in qualche modo condivisa c'è un tema che forse non è stato affrontato ma che dovremo affrontare soprattutto con l'abi che è quello dell'educazione finanziaria di cui si parla sempre ma che purtroppo vede pochi interventi veramente in quella direzione anzi io approfitto di questa occasione per farti complimenti per quella tua trasmissione estiva che come sempre sarebbe forse stata più opportuna anche per la mission sulla RAI visto che insomma le televisioni e i media devo dire complessivamente danno poca attenzione a questi temi dell'educazione finanziaria almeno del spiegare perché i mercati vanno in un certo modo quali sono le ragioni che li portano in quella direzione questa è una missione istituzionale che dovrebbero avere i giornali i quali mi pare che complessivamente siano più interessati a come riempire il giornale giorno dopo che a fare un discorso di prospettiva che sia utile per il paese Torniamo un attimo da Giuseppe Vegas perché appunto prima sia il suo intervento precedente sia alcuni punti che invece sono ancora da sviluppare sono stati evocati riguardo sia la questione del listing, le stesse cambiare finanziarie, all'iperregolamentazione, agli ipercontrolli che sicuramente sono un tema che culturalmente ti trova avverso Innanzitutto anch'io devo fare i complimenti per la tua trasmissione Stia, so di molti milioni di italiani che hanno rinunciato alla balera durante quell'essere Io per esempio, gli altri non lo so No scherzo a parte, complimenti perché un'azione di acculturamento è essenziale, insomma mediamente una persona perde più tempo a valutare come è composto Abbiamo sfruttato molto il network di investimenti finanziari come consulenza lo dico subito Uno perde più tempo a valutare come è composto i duetti di mortadella che compra da salumiere piuttosto che non le migliaia di euro che investe e a volte la mortadella è vigilata dai nasse più sicuri, il prodotto finanziario che compra è meno vigilato o perlomeno è fatto sotto una regolamentazione che consente di infilarci dentro delle cose che nella mortadella non si prenderebbero mai quindi almeno un'equiparazione del prodotto mortadella al prodotto finanziario potrebbe essere un primo punto che d'altronde è quello che stiamo cercando di fare e ripeto non è facile perché gli interessi sono piuttosto forti contrapposti quello di arrivare a un meccanismo di semplificazione, di divisione tra prodotti semplici e prodotti complessi il prodotto complesso va principalmente agli investitori istituzionali il prodotto semplice va al retail, quindi al consumatore, al risparmiatore che tanto per ricordarcelo anche la nostra Costituzione indica tra uno degli oggetti dell'azione dei pubblici poteri quindi la tutela del risparmio e d'altronde senza risparmio non si costruisce nulla questo è sicuramente un punto sotto questo profilo la semplificazione, cosa che si cerca di fare per esempio lo stiamo facendo e arriveremo a concludere presto sulle obbligazioni bancarie cozza un po' con alcuni atteggiamenti presi a livello europeo che sembrano contraddittori per esempio sulle obbligazioni si va verso il cosiddetto KID, KID cioè un foglietto di due pagine che è in grado di rendere chiaro a qualunque consumatore anche il meno esperto di che cosa si sta trattando e che rischio va assumendo mentre su altri prodotti si parla ancora di direttiva prospetto quindi sostanzialmente di mantenere un po' semplificati quei prospetti che erano la delizia degli avvocati ma la croce dei consumatori quando uno ha un prospetto dalle 200 pagine in su prima non lo legge nessuno ma anche se lo leggesse non lo capirebbe e non parlo di persone non acculturate ma parlo anche di persone laureate e quindi qual è l'utilità se non quello di far guadagnare gli avvocati categoria diciamo benemerita che però potrebbe rivolgersi a altri tipi di mercati quindi un'azione di semplificazione credo che sia importante sul listing se ne è già parlato ovviamente molto francamente ci sono degli interessi contrapposti ma questo voglio dire è un tema che si può esaminare più concretamente vedendo caso per caso che tipo di non dico mediazione ma che tipo di conciliazione tra interessi possa essere ottenuto io credo che si debba anche parlare di un altro tema che riguarda i mercati finanziari e anche i mercati dei titoli di Stato oggi c'è stata l'asta dei BOT è andata relativamente bene nel senso che sono stati piazzati 8 miliardi però ha un tasso di interesse crescente questo è relativamente preoccupante questo dipende ovviamente dai mercati ma anche dai cosiddetti agenzie di rating che sono quei signori che decidono se noi siamo belli o brutti faccio solo una citazione perché mi ha colpito ieri il presidente dei vescovi italiani ha detto le agenzie che classificano l'affidabilità dei grandi soggetti economici hanno continuato a far valere la loro autarchica e misteriosa influenza imponendo ulteriori carichi alle democrazie forse è un pochettino pesante però sicuramente il rapporto tra condizioni di vita delle persone e decisioni un po' autocratiche di questi soggetti andrebbe valutato quando noi un paio di mesi fa abbiamo sembra per i primi convocati un'agenzia di rating perché aveva espresso un rating senza motivarla adeguatamente e durante un periodo di borsa aperta qualcuno ha storto il naso ma poi mi sembra che qualcun altro ci sia venuto dietro perché se questi signori hanno un valore sicuramente ce l'hanno perché consentono se non altro ai gestori di fondi di non prendersi la responsabilità della valutazione della bontà di questo o quel fondo però anche lì un meccanismo di trasparenza ci deve essere e mi riferisco in particolare deve essere chiaro a chi appartengono queste agenzie perché se per caso appartengono ai soggetti che poi possono avere dei vantaggi economici rispetto ai rating che vengono attribuiti alle agenzie è chiaro che potrebbe nascere qualche sospetto invece qui bisogna essere come la moglie di Cesare cioè al di là di ogni sospetto e qui mi sembra che sia Cesare sia le mogli siano un po' più sospettabili posso dire una cosa noi abbiamo tra le molte iniziative della Commissione Finanze abbiamo fatto un lungo giro di audizioni anche con le agenzie di rating ma questo già prima della partenza di questa indagine conoscitiva la cosa più divertente credo che sia il loro atteggiamento loro si rifanno sempre all'articolo quinto della Costituzione americana sulla libertà di espressione e alla domanda ma obiettivamente non credete che il vostro ruolo sia decisamente sopravvalutato loro sostanzialmente tutti Moody, Fitch, Standard & Poor's hanno detto ma noi diamo dei pareri se la gente li vuole ascoltare bene e se no insomma ne può fare a meno naturalmente la vicenda del conflitto di interesse è apparsa assolutamente evidente a tutti credo che i colleghi e io siamo tempestati da report di Standard & Poor's e soci nei quali magnificano la loro attività ma il conflitto di interesse rimane pieno e credo che a livello europeo anzi ha fatto benissimo il Presidente della Consob avviare un confronto ma a livello europeo bisognerà pure prendere delle decisioni e come classificare i giudizi di queste agenzie di rating Scusa, giusto per concludere quello che stavo dicendo ma insomma la morale è che al netto di tutti i soggetti che intervengono sul mercato di tutti i tipi di classificazione di documenti di valutazione alla fine il risparmiatore è meglio che giudichi con la propria testa soprattutto in momenti turbolenti come l'attuale in cui come diceva il libro della giungla tanto più grande la confusione tanto più devi stare calma e cercare di ragionare perché se guardiamo i fondamentali i fondamentali non sono almeno per quanto riguarda l'Italia e anche il resto d'Europa non sono così brutti come vengono generalmente dipinti Un piccolo richiamo ai politici sulle agenzie di rating te lo faccio va benissimo perché le criticate sempre in astratto poi però c'è sempre il giochino quando vi faccio il caso concreto è successo ieri c'è stato il declassamento di alcuni antilocali italiani allora un comune declassato subito l'opposizione locale è colpa di questa lì da tre mesi insomma non possono certificare il fallimento se si evitasse di fargli sponda di fargli leva forse sarebbe meglio oltre a criticarle legittimamente ma guarda io sono in Parlamento ormai ahimè da cinque legislature ricordo i tempi in cui in Parlamento ogni movimento segnalato la standard veniva amplificato nelle aule sì perché è un giochino che non serve a niente dopo la vicenda di Lehman credo che nessuno si sia più mai più azzardato a parlare dei rating delle agenzie ma è certo che poi la politica sapete come va allora avevamo già avvertito che si avvicinava il suo turno Corno Tempini allora si è parlato di venture capital come strumento da riscoprire da rafforzare in Italia sullo sfondo di tutta la discussione della mattina c'è sicuramente la facilitazione dell'accesso al mercato dei capitali da parte non solo delle PMI ma anche di aziende grandi che magari per scelta insomma non vogliono farlo voi svolgete un ruolo parallelo a tutto questo perché andate a portare capitale facendolo come compito istituzionale direttamente dove ce n'è bisogno però un rafforzamento della trasparenza come si è detto questa mattina e degli strumenti di mercato aiuterebbe anche il vostro lavoro intanto buongiorno a tutti ringrazio il Presidente Conte per l'invito oggi mi sembra che il dibattito sia molto ricco molto interessante parto da quest'ultimo spunto noi non svolgiamo un ruolo parallelo noi svolgiamo un ruolo complementare nel senso che sia con l'ABI che con Findustria noi abbiamo contatti frequentissimi amplissimi per fare in modo che gli strumenti che noi mettiamo a disposizione dell'economia siano il più possibile aderenti al ruolo che noi tradizionalmente abbiamo che è quello di investitori di lungo termine quindi per le caratteristiche intrinseche di cassa di non avere la necessità di dare una rendicontazione trimestre per trimestre ma di garantire un equilibrio dell'istituto nel medio termine quindi complementare è molto importante e mi riallaccio a alcuni dei temi che sono stati toccati oggi perché credo che siano al cuore poi delle tematiche che sono sulle prime pagine dei giornali innanzitutto Giuseppe Vegas ha parlato di ritorno a un ruolo della finanza ricordando e forse è bene veramente sottolineare il concetto che la finanza serve per fare in modo che il risparmio si colleghi a un emittente sia di debito che di azione e questo ruolo di trasmissione è un ruolo che per certi versi si raffigura a quello di un'infrastruttura tant'è vero che si parla di borsa come di un'infrastruttura finanziaria ora io sono stato tanti anni in consiglio di borsa tanti anni nel consiglio del mercato dei titoli di Stato quindi ritornano delle questioni che hanno caratterizzato la mia vita professionale per molto tempo allora queste infrastrutture devono essere coerente con il bisogno primario perché usando una forzatura assoluta è come se ragionando di energia costruissimo 25 gasdotti per portare il gas dal produttore al consumatore il valore marginale del terzo gasdotto comincia a essere clamorosamente decrescente e da questo punto di vista il tema dell'entità della quantità del mercato secondario rispetto al mercato primario è un tema che è il tema che prendendolo da vari punti è la questione della regolamentazione del mercato ora qual è il problema di questo eccesso del mercato secondario rispetto ai bisogni primari è che la dimensione del mercato secondario anche sfaccettato in tutte le sue problematiche legate ai vari prodotti è che aumenta la volatilità in modo abnorme e aumentando la volatilità in modo abnorme rende difficile la scelta e del risparmiatore e di chi emette il risultato di questo è che quest'anno il numero di IPOs nel mondo è crollato perché per un imprenditore pensare di andare in borsa oggi mettere a rischio la propria azienda attraverso un processo di valutazione che è legato a processi di sviluppo scelte importanti nella vita di un'azienda che toccano l'azionista che toccano i lavoratori insomma come si può immaginare una scelta di questo genere quando le valutazioni si muovono di tanti punti percentuali al giorno e questo è un tema questo è un tema che rende problematico il ruolo della finanza come fattore di crescita e che paradossalmente fa ritornare importante e ancora più importante in questa fase il ruolo dell'equity privato dove l'equity privato intendo l'equity non sui mercati quotati credo che siano questioni di fasi credo che il ruolo dell'equity privato ribadisco inteso come non quotato abbia avuto momenti di gloria e momenti di minor rilevanza credo che questo sia un momento in cui l'equity privato è importante e qui c'è il secondo tema che è stato toccato nel dibattito di oggi il tema dell'equity verso il debito allora non esiste una ricetta magica il debito non è da demonizzare in assoluto la questione è che se c'è troppo debito chi ti ha prestato i soldi diventa nervoso a un certo punto e il tema dell'equity entra quindi nello scacchiere delle scelte che l'imprenditore deve fare in modo importante perché quando il mercato è volatile e quando il mercato è nervoso avere una struttura di equity solida è ciò che ti protegge da un lato ed è ciò che ti fa crescere dall'altro è su questo tipo di ragionamenti che in cassa abbiamo deciso che dare denaro all'equity privato in questa fase è cruciale e lo stiamo facendo sia dal lato delle infrastrutture sia dal lato delle imprese prima insieme a Labia con Findustria alle banche con il Fondo Italiano di Investimenti che ha come target le piccole e medie imprese sia con tutte le iniziative che abbiamo sponsorizzato per le infrastrutture perché il tema dell'equity è importante anche per le infrastrutture non dimentichiamolo ed ora con l'ultimo nato che è il Fondo Strategico Italiano allora la questione dell'equity privato credo che sia importante in una fase di difficile lettura dei corsi azionari perché dà all'imprenditore proprio quella possibilità di avere un partner che permetta di ragionare in termini di crescita e qui apro una considerazione sul ruolo che noi come cassa abbiamo in questa fase che è un ruolo particolarmente delicato e particolarmente importante proprio sui ragionamenti della crescita perché l'equity è un moltiplicatore altissimo se usato bene è un moltiplicatore di crescita altissimo ma che come tale deve essere usato peraltro la cassa usa capitali privati non pubblici usa il risparmio postale quindi è il risparmio degli italiani non è da confondere né con iniziative a fondo perduto o altro quindi c'è una particolare cura il primo pensiero la mattina che ho quando mi sveglio è quello il fatto che io i denari che ho a prestito devo ridarli indietro da questo punto di vista però ritornando al ragionamento che stavo cercando di fare e vado alla conclusione il ruolo dell'equity secondo me è particolarmente rilevante in questa fase e con tutte le attenzioni con tutte le cautele noi ci stiamo spingendo sempre di più su questi territori sono dei territori dove ci vuole pazienza è un lavoro che non ha nessuna risposta facile e immediata investire in un'azienda tramite un fondo o direttamente significa capire l'imprenditore capire il business farsi capire come soci condividere delle scelte non è una cosa che si scrive sulla carta e avviene automaticamente credo che il fondo italiano di investimento abbia avuto una buona partenza penso che il numero proprio da un punto di vista quantitativo nel ciclo di vita del fondo si misurerà su svariate decine in termini di piccole e medie imprese sto parlando ovviamente del ciclo pluriannuale credo che questo per l'amico Massimo di Borsa sia una grande opportunità a cogliere a termine perché è già scritto che succederà che poi dopo arriveranno in pochi mesi di attività il fondo italiano di investimenti ha avuto quasi 700 applications quindi vuol dire che anche il mondo delle piccole e medie imprese si rende conto che il tema dell'equilibrio fa il debito e l'equity è importante quindi non ci sono le IPO ma ci sono le richieste a voi sì però l'equity privato e l'equity pubblico sono due latte dello stesso medaglio e da questo punto di vista l'interconnessione fra i due mercati è assolutamente evidente nella storia del sistema capitalistico da quando i mercati esistono l'ultimo punto e poi concludo è veramente sul ruolo vorrei sottolineare la questione del ruolo dell'azionista rispetto al ruolo del debitore ora Cassa svolge entrambi credo che se qualche anno fa si fosse detto che l'amministratore di Cassa passava un terzo del suo tempo a ragionare di imprese sarebbe stata una una cosa improponibile oggi è così il dialogo con gli imprenditori per me è materia quotidiana dialoghiamo con l'ABI per il Pafon sulle piccole e medie imprese finanziamo le infrastrutture direttamente ci occupiamo di fare in modo che le infrastrutture abbiano una struttura finanziaria solida per permettere loro di poter essere finanziate senza gravare sul bilancio dello Stato che è il vincolo che è inutile che sottolinei per la rilevanza perché è assolutamente noto da questo punto di vista ancora il ruolo dell'equity è un ruolo particolarmente importante e che ha sì l'onore della qualifica di azionista in un progetto ma anche l'onore di dire che certi vincoli vanno rispettati e che certe cose possono essere fatte e altre no e queste sono le nuove attività su cui la cassa si sta provando sul venture capital io credo che le cose in Italia stiano muovendosi ci sono degli operatori non tanti siamo indietro rispetto a altri paesi europei ma ne parlavo giusto ieri a Milano comunque molto meglio di qualche anno fa ci sono dei bacini di eccellenza in alcune università che stanno cominciando a legarsi a operatori di finanza specializzati nel venture capital non escludo che il venture capital possa diventare uno degli strumenti che vedrà Cassa come sponsor mi viene da dire un passo alla volta tenuto conto proprio della prudenza che noi dobbiamo avere come gestori di risparmio privato Luca Angelucci sotto il profilo dell'educazione finanziaria molto rapidamente ovviamente gli strumenti che sono stati immaginati diciamo che sono i dati di rafforzarli di estenderne l'applicazione al mercato italiano questa mattina ti sembrano interessanti ci sarà bisogno di spiegare ulteriormente cose ai risparmiatori volevo fare una premessa volevo fare una premessa poi se vuoi parlare della mortadella di Vegas allora il successo del mercato di un nuovo mercato per le pubbliche per le piccole e medie imprese può avvenire se vengono ovviamente coinvolti e convinti i risparmiatori a investire nelle piccole e medie imprese sia nelle loro azioni che nelle obbligazioni il risparmiatore italiano non ha una cultura come diciamo finanziaria adeguata e ha una promenzione a rischio molto bassa il decide di investire se spinto dall'offerta quindi difficilmente di sua spontanea volontà investirebbe in azioni appunto di piccole e medie imprese o in obbligazioni un tema del rischio è legato anche alla questione del venture capital c'è un aspetto su cui dobbiamo tutti essere d'accordo per parlare di venture capital e cioè per sponsorizzare venture capital dobbiamo entrare nell'ordine di idee che fallire è una questione molto possibile e che non è una questione da colpevolarizzare cioè se chi fallisce è un bandito è un conto ma se chi fallisce fallisce perché il suo prodotto non funziona imprese o perché il mercato lo capisce con ritardo è un'altra questione il venture capital va di pari passo con un numero di fallimenti altissimo per favorirlo dobbiamo fare in modo che il tema del fallimento sia gestito nel modo più corretto quindi anche lì si parla di modifiche legislative evidentemente prego si dicevo quindi difficilmente il risparmiatore investirebbe di sua iniziativa nelle azioni o obbligazioni piccole e medie imprese per cui per rendere il mercato questo nuovo mercato liquido occorrerà sicuramente una collaborazione con quelli che sono gli interlocutori principali dei risparmiatori cioè con le banche sicuramente e con le poste probabilmente le banche italiane devono svolgere un ruolo in questo senso cioè devono essere consapevoli di avere una responsabilità sulle spalle che è quella dello sviluppo del sistema economico e quindi anche della crescita per il tramite della crescita delle piccole e medie imprese consideriamo che il risparmio rappresenta la principale fonte di rifinanziamento tanto sia dello Stato sia soprattutto del sistema bancario da stabilità sia alle banche sia al nostro sistema economico va sicuramente tutelato è assolutamente importante che abbia degli investimenti efficienti e diversificati in Italia manca l'asset appunto di l'asset class delle azioni e delle obbligazioni delle piccole e medie imprese che in altri paesi è fondamentale ma anche come ritorno per l'investimento stesso per esempio in America dal 1925 ad oggi ci sono stati vari studi che hanno testato come l'investimento in small e mid cap ha reso il 245% in più dell'investimento in azione larga capitalizzazione come pure l'investimento corporate ha avuto un ritorno per il risparmiatore che vi avesse investito del 40% in più rispetto all'investimento in titoli di Stato a medio e lungo termine grazie Luca vorrei tornare un attimo da Presidente Mussari le banche sono state molto chiamate in causa in tutti questi interventi allora quello che mi sembra di capire prima eravamo partiti riferendo l'espressione usata dall'onorevole Conte sul conflitto di interesse però alla fine l'Italia rimane e rimarrà comunque un paese bancocentrico allora da tutti questi strumenti anche dall'aumento della partecipazione dell'equity privato alla capitalizzazione delle imprese non si può trovare comunque un ruolo aggiuntivo per le banche senza per forza entrare in conflitto quindi con da parte vostra la capacità di assecondare la diffusione di strumenti innovativi non colgo l'idea del conflitto ma è un mio limite non siamo in conflitto con niente nel senso questo è un paese che si è sviluppato per ragioni culturali e antropologiche che sarebbe lungo affrontare stamattina in una certa direzione e ha trovato nelle banche un luogo dove mantenere una struttura produttiva che oggi si dimostra relativamente efficiente anche se l'esistenza della stessa è la vera nostra traiettoria di crescita per il futuro cosa che le agenzie di rating non riescono a cogliere in pieno ci dobbiamo porre oggi di fronte a un panorama complesso che impone a noi ma in termini di struttura produttiva in primo luogo non di equilibrio del mercato finanziario cioè se la dimensione delle nostre imprese fosse compatibile con il tasso di sviluppo che il paese deve avere a me che vanno non vanno in borsa non me ne può interessare di meno cioè il tema è che la finanza è a servizio nell'economia nella misura in cui l'economia ha la necessità di avere maggiori capitali o maggior debito per crescere noi abbiamo un tema di dimensione media da far crescere questa dimensione media è diventata più drammatica in termini di esigenza perché la capacità di individuare mercati diversi da quello tuo originario diventa decisiva per la tua prima sopravvivenza e poi per la tua crescita e quindi per la nostra crescita e quindi siamo qui giustamente con il presidente Conte a porci il problema dentro questo problema non c'è qualcuno che tira da una parte che tira da un'altra un paese che non per un paese che non cresce le banche non possono crescere e non possono guadagnare cioè non nuotano in un'altra acqua non hanno una riserva indiana in cui potersi ritirare a prescindere da quello che gli successe intorno ed è giusto che sia così che se no c'è qualcuno che manipola diciamo le conclusioni e i numeri e allora aiutare le aziende a comprendere che il capitale diventa per certi versi indispensabile per fare un salto di qualità e una serie di strumenti ce li ricordava prima il dottor Gorno Tempini sono stati messi in piedi quello del fatto col ministero del fondo italiano di private equity riscoprendo la funzione del capitale privato in una logica che non è solo speculativa di breve periodo e notizia forse troppo complessa per interessare attenti studiosi e importanti commentatori ma è un tentativo in primo luogo culturale di affrontare un fenomeno come quello della modernità con paradigmi diversi dall'ordinario perché questo dobbiamo fare dentro questi paradigmi però e chiudo quello che da ultimo diceva Gorno Tempini non è secondario perché nella misura in cui noi andiamo su questa traiettoria e ci spingiamo dal capitale privato al venture capital e quindi ad una fase dell'azienda ancora più embronale rispetto a quella che ha accesso prima al capitale privato e poi alla borsa il rischio inevitabilmente aumenta e allora non è per vedove e per risparmiatori retail questo va detto e più per fondi che dentro questa attività e dentro il numero delle operazioni e la capacità dei tecnici trovano un equilibrio ma in cui il fallimento è fenomeno fisiologico perché se negli Stati Uniti il fallimento non fosse stato un fenomeno fisiologico loro non avrebbero avuto né Silicon Valley né Microsoft né Apple perché quanti partirono in quell'epoca e poi ne sono arrivati due sostanzialmente tanti altri a dimensioni diverse ma ne sono arrivati due noi su questo abbiamo un atteggiamento che probabilmente qualche matrice cattolica ce lo influenza cioè il fallimento è tra virgolette molte virgolette il peccato poi diventa il reato poi diventa il processo e poi diventa l'ira di Dio un conto è chi ruba cioè chi prende i soldi dalla cassa se li mette in tasca e fa fallire l'azienda quello va imprigionato buttata via le chiavi e pesta finita un conto è l'insuccesso ma l'insuccesso o lo rendiamo in qualche modo fisiologico e aiutiamo chi ha un insuccesso a riprovarci e perché può darsi che un'energia sia spendibile verso un altro progetto e un altro traguardo o ci mettiamo in testa un'idea del mondo economico che non è il mondo economico per quante le regole noi possiamo immaginare regole umane e ragionevoli segna ogni sera il successo di qualcuno e il relativo al successo di qualcun altro è inevitabile se il relativo insuccesso diventa patologico diventa fallimento la natura di questo fallimento nella misura in cui non sia dolosa ma dovuto al libero esercizio del commercio dell'industria deve trovare una spirale fisiologica che consenta a chi ha partecipato all'impresa e anche a chi l'ha finanziata in varie forme di poter ripartire da un'altra parte ecco se riusciamo ad aggiungere anche questo all'insieme di sistemi e di norme di cui dovremmo e ci stiamo occupando io credo che facciamo un passo avanti significativo grazie beh soprattutto appunto direi che l'idea di abolire per legge il rischio che fa un po' parte della cultura italiana e di imporre per legge la sicurezza poi aprono la porta in realtà alla catastrofe non al rischio quindi bisogna stare molto attenti chiamere in causa velocemente a questo punto che siamo in chiusura di mattinata sia Tononi sia Vegas sul dato che ci è stato riportato assolutamente non in modo polemico ma come osservazione da Gorno Tempini sulla quasi assenza di IPO negli ultimi tempi in Italia quindi comincerei prima da Borsa e poi Consob il dato è incontrovertibile particolarmente vero nella realtà italiana per i motivi che anche oggi abbiamo sottolineato più volte quindi vi è un'indisponibilità sul lato dell'offerta quindi degli imprenditori ma vi è anche onestamente una recettività limitata da parte degli investitori io sono speranzoso e mi ricollego in maniera anche un po' strumentale a quello che diceva Giovanni Gorno Tempini poco fa nel senso che come cittadino italiano e come presidente di Borsa ovviamente sono molto contento quanto un'azienda italiana si quota sul mercato per tutti i motivi che abbiamo richiamato maggiore trasparenza capitali e quindi crescita nel suo interesse e nell'interesse del paese ma sono anche contento quasi altrettanto quando un'impresa raccoglie capitali di rischio sul mercato privato e che è quello che per esempio sta facendo la Cassa di Depositi e Prestiti e naturalmente tutti i suoi partner soprattutto bancari attraverso il Fondo Italiano per gli Investimenti perché è una questione di tempi quello spesso è un primo passo per arrivare poi da voi prima o poi quegli investitori vorranno pure monetizzare i loro investimenti e la Borsa è lì per questo e quindi un giorno o l'altro molte di quelle imprese si cuoteranno e quello che mi piacerebbe per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco di questo canale di investimento di capitali privati che oggi essenzialmente vede protagonista la Cassa di Depositi e Prestiti e i suoi partner ma molto meno purtroppo gli operatori di emanazione più strettamente privata e ho quasi imbarazzo a dirlo e qualche agevolazione tributaria in passato ci abbiamo provato bisogna stare molto attenti naturalmente sia perché vi sono vincoli comunitari che possono qualificare interventi di questo tipo come aiuti di Stato sia perché il rigore quando si parla di finanza pubblica mi sembra evidentemente essenziale in un periodo come quello che viviamo però secondo me esistono gli spazi per degli interventi poco costosi nel breve potenzialmente redditizi anche sotto profilo al gettito tributario nel lungo termine per indurre le nostre imprese e gli investitori a collocare parte del loro patrimonio nelle imprese piccole e medie perché questo è il segmento a cui io sto facendo riferimento si può pensare ad agevolazioni Ires per esempio sugli utili dei capitali raccolti da parte delle imprese piccole e medie si può pensare ad esenzioni dalla tassa sulle plusvalenze piena deducibilità delle minusvalenze per gli investitori in fondi e qui mi richiamo anche quanto diceva poco fa il Presidente Musseri in fondi che hanno come missione l'investimento in piccole e medie imprese o in iniziative di venture capital alla fine gli importi in gioco sono limitati il ritorno sull'economia nel medio e lungo termine può essere significativo e quindi anche il gettito tributario può essere nei fatti a lungo termine positivo grazie Vegas sempre sulla stessa questione direi è chiaro che noi fino ad adesso quest'anno se non sbaglio di IPO ce n'è stata una una in Italia che mi sembra che sia andata bene c'è stato un concorrente di quello che ha fatto l'IPO in Italia che l'ha andata a fare a Hong Kong e mi sembra non si sia trovato benissimo forse è stato un po' come dire abbindolato dalle sirene dell'Oriente quindi anche qui una riflessione andrebbe fatta è chiaro che la situazione economica è tale da non indurre sono poche non sono in Italia ecco abbiamo detto no no non è vero che non sono poche perché per esempio se prendiamo la Polonia che è un paese molto dinamico mi sembra che siamo nell'ordine di un centinaio quest'anno e che non è poco è chiaro che quello è un paese relativamente giovane e in crescita però fa anche una cosa che bisognerebbe che facessimo anche noi cioè stanno attraendo IPO dai paesi dell'ex patto di Varsavia dai paesi vicini e quindi la borsa di Varsavia sta diventando una borsa importante a livello regionale non solo nazionale allora perché questa stessa cosa e qui mi domanda è in grado di farla solo borsa italiana o serve un aiutino perché non si può fare anche per i paesi dall'altra sponda dell'Adriatico per dire non dico dall'altra sponda del Mediterraneo perché è già più complicata ma un centro di attrazione la borsa di Milano un centro di attrazione anche della Slovenia Croazia cose di questo genere sarebbe ragionevole perché questo che trasferiamo manifattura almeno riportiamo un po' di finanza perché non perché non pensarci perché non fare un tipo di azione di questo genere che servirebbe un pochettino a tirare su qualche capitale è ovvio che qualche difficoltà è obiettiva e dipende uno dai fattori diciamo regolamentativi insomma una impresa che si quota in borsa a parte gli oneri diretti cioè i costi dell'IPO c'è anche dei costi indiretti che sono la maggiore trasparenza che sono un vantaggio dopo perché naturalmente l'impresa diventa più appetibile quindi arrivano più capitali l'impresa è in grado di crescere però all'inizio possono rappresentare un certo qual ostacolo e poi c'è anche un fattore a livello macro se mi permettete c'è una sorta di effetto spiazzamento qui è vero che l'Italia è un paese salvadanaio e il nostro interesse credo di tutti sarebbe che il contenuto di quel salvadanaio resti nel nostro paese per finanziare investimenti produttivi che poi portino a quel desiderato tasso di sviluppo che tutti andiamo cercando a parole magari non sempre a fatti però è anche vero che pur essendoci un forte tasso di risparmio questo risparmio sta diventando sempre di più un tesoretto su cui allungare le mani perché serve per finanziare le imprese serve per finanziare le banche che giustamente devono fare il loro lavoro di prestito alle imprese serve sempre di più a finanziare i costi della pubblica amministrazione quindi diventa se vogliamo mettere proprio un ordine di grandezza di importanza ai problemi il primo è quello del finanziamento del debito pubblico perché se non fosse adempiuto il servizio del debito pubblico salta tutto il sistema ovviamente a costi crescenti quindi non c'è dubbio che se vogliamo guardare proprio anche nella sostanza noi dobbiamo trovare un sistema per ridurre la fame di soldi da parte dell'operatore pubblico e allora lì è inutile che ci giriamo attorno la questione dello sviluppo la madre di tutti gli sviluppi è la diminuzione della pressione fiscale che poi consente a ciascuno di essere più libero di decidere se spendere o investire ma per diminuire la pressione fiscale anche lì è inutile che invochiamo strane formule magiche bisogna diminuire la spesa pubblica che d'altronde è quella che costituisce la palla al piede non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa vedete la Grecia quindi se vogliamo affrontare veramente il problema e questo non è benaltrismo perché il problema non si pone in un momento ipotetico in un paese ipotetico ma si pone qui e oggi va risolto in tempi rapidissimi è quello di aggredire seriamente la spesa pubblica e da lì poi dopo seguiranno tutti gli effetti per il resto i regolatori e concludo cercano di fare il possibile ben sapendo che quello che cercano di fare oggi per un tempo limitato come intervento dei pompieri nel nostro paese ha degli effetti che forse possono essere utili per raffreddare un po' la dinamica ma la dinamica non è determinata dalla regolamentazione dei mercati vorremmo tornare un attimo ancora nel mondo io l'ho definito parallelo ma è più giusto dire complementare della raccolta del risparmio postale e poi dell'utilizzo anche per strumenti di venture capital quando un'azienda che attinge a questi strumenti poi arriva in borsa voi lo considerate un successo dottor Gordo ma guardi io sono d'accordo con quanto è stato detto prima il tema della borsa non è l'obiettivo primario il tema della borsa può essere una scelta ci sono anche in Italia straordinari casi di successo di aziende che non sono quotate e altre che invece hanno scelto di prendere la strada della quotazione dipende dalla capacità di un gruppo di un nucleo di controllo che può essere familiare o no di finanziare lo sviluppo dell'impresa da solo attingendo i propri mezzi piuttosto che scegliere di farlo insieme ad altri partner quindi dal nostro punto di vista la questione è abbastanza abbastanza irrilevante certo è che la borsa rappresenta una forma primaria di sbocco per le azioni di una società che intraprende questo tipo di percorso perché o immaginiamo che la cassa depositi e prestiti e i suoi strumenti ma così non è diventi azionisti permanente e non è nelle intenzioni di nessuno immagino quello di pensare che attraverso di noi ci sia una forma di azionariato perenne che non credo che sia non credo che sia utile neanche ai fini di una politica economica che tenda a mettere nuovi equiti a disposizione di nuove iniziative ci deve essere un certo riciclo allora da questo punto di vista è auspicabile per noi che la borsa riprenda vigore che la borsa sia un luogo vivo dove l'imprenditore possa avere una scelta valida di poter accedere a capitali che servano per nuove iniziative piuttosto che offrire a nuovi azionisti che in fasi diverse della vita di un'azienda possono avere interessi diversi perché è evidentissimo che investitori possono guardare con interesse a un business plan che è stato consolidato e che comincia a dare risultati altri azionisti prenderanno un rischio diverso e entreranno in una fase di vita dell'azienda dove invece ci sono dei rischi maggiori ma potenzialmente anche dei ritorni maggiori Luca molto velocemente come racconterai sulla tua rivista questa mattinata proprio in termini quasi di titoli allora l'iniziativa ripeto è sicuramente un'iniziativa ottima perché consente di cominciare con quelle riforme strutturali necessarie questa è una riforma che diciamo a costo zero e che non è dell'interesse di nessuna categoria in Italia si sa quando si vanno a toccare interessi specifici di qualcuno poi anche se la correzione è giusta nessuno poi approva questa cosa le opposizioni vanno in piazza se non sono l'opposizione una parte sono l'opposizione dell'altra dell'altro lato ma ripeto al di là dei discorsi dei vari discorsi tecnici occorre convincere tanto gli imprenditori a cambiare mentalità e a aprirsi al mercato tanto i risparmiatori a investire non sui soliti titoli di Stato o azioni a larghe capitalizzazione ma anche su imprese più piccole e sicuramente più rischiose grazie allora fiderei al presidente Conte non dico delle conclusioni un ultimo intervento che vale anche come un po' di compendio di quello che si è detto io in realtà ne abbiamo parlato altre volte con Gorno Tempini è chiaro che il mercato dell'equity non indipendente da quello della borsa è un tema assolutamente importante credo che lui abbia ragione a pensare che l'equazione W-W-O cioè way out uguale a un right off sia una cosa che insomma bisogna evitare nella maniera assoluta ma d'altra parte proprio la temporaneità degli interventi nelle aziende dovrebbe trovare collaterale questa volta un sistema che aiuti poi le imprese con la presenza di un'equity forte a fare la scelta se rimanere e sostituire per esempio i fondi che sono oggi attivati con altri fondi o magari l'ingresso in borsa in questo momento credo guardo alla signora che è una di quelle capitane coraggiose che tenta l'ingresso in borsa se dopo questa discussione è rimasta della stessa idea o ha qualche dubbio in più bene e allora io credo che tutto quello che è stato detto abbia portato anche alla sensazione da parte di chi sta ascoltando che l'argomento è caldo che insomma noi siamo avviati come commissione ad affrontare insieme alla riforma fiscale un set dei provvedimenti che possa andare nella direzione che ci siamo detti quest'oggi come se riforma a costo zero esatto che è cioè quello di aiutare le imprese a crescere e insieme alle imprese aiutare il paese a crescere grazie grazie a tutti i relatori alle strutture della camera che ci hanno ospitato auguri a investimenti finanziari per i prossimi 20 anni